Mister, uscite sconfitti qui dal Morgavi, forse con un calcio di rigore molto dubbio che ha creato grosse proteste. Non so se tu hai visto la partita, io non sono un polemico, non mi piace essere polemico, è scandaloso, scandaloso. Ha rovinato una partita scandalosa. Ha fatto, allora, non ci ha dato un rigore, il primo tempo a noi di mano netto, gli ha fatto fare il gol al 45esimo a tempo scaduto su una palla, su un fallo noce. Io non so cosa possiamo avere fatto uno così, perché non so se tu hai visto la partita, è stato uno scandalo. Uno scandalo, uno scandalo. Tutte le volte che veniamo in questo campo qua, è uno scandalo. Io non so, o ce li mandano apposta, perché è un po' sì. Io non so cosa dirti, è stata una partita giocata, giocata, c'erano giocata, sia loro che noi, loro sono una squadra molto più fisica, non abbiamo giocato più a pallone. Guarda, mi dispiace per i miei ragazzi. E' uno scandalo. Non si può fare, non rovinare una partita, tanto poi rovinare una partita giocata. Mi dispiace, mi dispiace, non sono vittuato a essere così nervoso, non mi piace, però... Alla prossima.